In questo video vediamo le 5 migliori lavastoviglie in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo. Numero 5. Al quinto posto troviamo Bosch. Il motore senza spazzole EcoSilence Drive è estremamente efficiente, veloce e silenzioso e adegua accuratamente la pressione dell'acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato ad ogni tipo di carico. Questa lavastoviglie dispone di un sistema di protezione antiallagamento. Il prezzo è di 500 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo Electrolux. Copertura e pulizia completa con il mulinello satellitare, grazie ad un flusso d'acqua tre volte più forte, comparato all'azione dei mulinelli standard, che raggiunge ogni angolo della vasca per una pulizia approfondita. La tecnologia AirDrey permette alla lavastoviglie di ultimare il ciclo di asciugatura con una ventata di aria fresca, garantendo risultati di asciugatura tre volte migliori rispetto ai tradizionali sistemi a vasca chiusa. Il prezzo è di 418 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3. Al terzo posto troviamo Earpool. I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura e tempo in base allo sporco effettivo. Questa lavastoviglie dispone di filtro autopulente, vasca interamente in acciaio inox e decalcificatore a regolazione elettronica. Cesto superiore regolabile in altezza e rimovibile. Il prezzo è di 409 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo Beko. È una lavastoviglie ideale per le case con poco spazio o dove non è necessario avere una capacità molto più grande perché non si accumulano troppi stoviglie. Con una larghezza di 45 centimetri, avrai bisogno di molto meno spazio per l'installazione. Il prezzo è di 309 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo Samsung. Finalmente un sistema semplice e intuitivo per lavare i piatti con ampio display a LED di facile lettura che consente di controllare lo stato del lavaggio anche da remoto, impostazioni, tempo rimanente e stato di avanzamento e monitorare agevolmente l'andamento della lavastoviglie. Lo spazio interno può essere configurato in maniera flessibile in altezza e consente di alzare o abbassare rapidamente e con un unico gesto il cestello superiore di 5 centimetri. Ricavando più posto nel cestello inferiore è possibile caricare piatti di varie forme e dimensioni, incluse pentole, piatti da portata e di grandi dimensioni. Il prezzo è di 499 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.